Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi facciamo un video che si chiama il super mondo di gioia. Spero che vi piaccia. Buona visione. Ah, oggi è una bella giornata. Sì, sì, sì. Allora, allora, c'è un sacco di sole, poteva giocare a palla. Sì, sì, ma... Erzo, che ti fai? Hanno rapito la tua scogliatulia, ma non era mai spuggita di casa. Sì, ma l'hanno rapito lo stesso. E come? Tu sai il sentiero? Sì. Allora. Ma che dovremmo salvarla? Già, non potrebbe essere una missione un po' troppo pericolosa? Sì, salviamola. Allora. Non fare... Non dire con quella voce perché se no mi fai davvero paura. Ragazzi, non dite così che mi intristisco. Dobbiamo... E non mi arrabbio. Dobbiamo... Io mi impaurisco. Dobbiamo salvarlo, è una cosa troppo triste. Va prima a paura. Dio, se ne parlo, non se ne parla. No, 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 no. Ma dai, paura. No. E dacci per forza. No. Dai, dai, paura. No, 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 no. Nel caso, non ci vuoi dare tristenza? Oppure faci tu che puoi fluttuare con l'altra gonna? Oppure faci... Guarda... Ah, se non vuoi è solo l'unico modo. No, 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 no. Gata, purta! No, 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 no. No, no, no. Aiuto, no. Ragazzi, ma io ho un brutto presentimento. Secondo me non ce la fa da solo. Che tristezza. Aspetta, io sento un risultato da cattivo. Secondo me dovremmo andare ad aiutarlo. Che dite? Sì, sì, ma io devo andare da la mia amica immaginaria, Olly. E vabbè, andiamoci. Perché lei mi darà un potere che mi farà diventare gigantesca. Va bene, dai. Vai dalla tua amica immaginaria. Ciao, Olly. Ciao, Olly. Ciao. Ciao, Gioia. Ti serve un nuovo potere? Certo, che mi fa diventare gigantesca. Ok. Ti faccio subito. Tocca questo ricordo base. Mi hai fatto diventare gigantesca nel tuo potere. Grazie, Olly. Oltre è nata. Oh, mamma mia, quanto sei alta. Che è successo, Gioia? Sono andata da Olly per un potere così gigantesco. Ah, lo stupido che sei immaginaria. Allora. Allora potrai andare tu da sola. Certo. O dobbiamo venire anche noi. Dai, venite. Ma non se ne parlate pure. Andiamo. Ma non se ne parlate pure. Io ne sto qua. Secondo me potrebbe stare da questi parti. Ragazzi, aiutatemi. No, no, no. E io ci scriviamo. Ecco. Che hai fatto? Ecco. Adesso. Adesso io li distruggerò. Ah, fantana, ti puoi riuscire. La chiave. Finalmente. Grazie, ragazzi. Adesso andiamo a salvare quel criceto. Gioia, salviamo Flora. E dove sarà Flora? Io la vedo l'assù. Hai ragione, tristezza. Adesso andiamo. Sì, ma come facciamo però? Io sono un gigante. Buon'idea. Gioia, vado a saltare. Te la fai? Grazie, Gioia. Sei la mia migliore amica. Brava, Gioia. Torniamo a casa. Sì, a casa, a casa. Sì, però ho un piccolo sentimento. Come torniamo a casa se non abbiamo una calapulta? Andiamo a piedi. Ok. Io sono gigantesca. E più gigante, più fa il salto più in alto. Ci puoi portare tutti in braccio. Ok. E poi se Gioia è un po' stanca, io la prendo in braccio. Ah ah ah, ha fatto un bello scherzo a Bowser. Gli ha rubato le chiavi così non prigionerà mai nessuno. Oh, questa cosa quasi non è triste per niente. È vero, tristezza. E noi non gliela daremo mai più. Che bella avventura che è stata. Sì, brava, Gioia. Bravissima. E la resta è formidabile. Grazie molte. Ciao ragazzi e ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. E ora salutiamo quelli che ci sono iscritti ma non ci ricordiamo più. Ciao. E se questo video vi è piaciuto, mettete il mi piace, fate qualche commento. Io vorrei essere triste ma non riesco questo video, mi è piaciuto un sacco. Un grande bacione a tutti quanti. Salutiamo le voci di questo video. Sì, a Gioia, che era Lara. Poi, rabbia, che è Emiliano. Dov'è rabbia? Eccomi qua. Ringraziamo anche Paura. La voce è stata fatta da Emanuele. Che va? E poi, un bacio al nostro cricciatino che è stato saltato. Grazie pure a Elsa. Che si chiama Flora. A Elsa. E ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti. Iscrivetevi al canale. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao da Gioia. Ciao da tutti. Iscrivetevi al nostro canale, mi raccomando.